Mentre rimangono alti i numeri quotidiani della pandemia, cresce anche in Abruzzo il numero delle prime somministrazioni di vaccino. Le ASL accelerano sulla campagna vaccinale con giornate dedicate ad alcune fasce di popolazione. Questa sera a Pescara open night per gli over 50, appuntamenti con priorità anche alle donne incinte e open day pediatrici organizzati un po' in tutto l'Abruzzo. Sempre a Pescara, dalla prossima settimana sarà operativo il nuovo hub all'interno del Palazzo Fuxas. Ma intanto facciamo il punto della situazione proprio dall'hub vaccinale di Pescara con la nostra Anna Di Giorgio. Buon pomeriggio Anna. Ciao Carmine, buon pomeriggio a te, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Come dicevi tu, oggi siamo proprio venuti a Pescara, in piazza Vittoria Colonna, alle nostre spalle, inquadrato dalla telecamera di Diego Martelli, proprio il centro vaccinale di Pescara, Porta Nuova, che questa sera aprirà a partire dalle ore 20 agli over 50 che vorranno ricevere la prima dose di vaccino anti-Covid. Questo open night, così è stato definito, rientra in una calendarizzazione della campagna vaccinale alla quale l'Asl di Pescara ha voluto imprimere proprio un'accelerazione. Allora, questa mattina abbiamo a tal proposito sentito proprio il referente della campagna vaccinale dell'Asl di Pescara, il dottor Rossano Di Luzio. Sentiamo insieme cosa ci ha detto. Dottor Rossano Di Luzio, responsabile della campagna vaccinale per l'Asl di Pescara. Vanno avanti queste campagne appunto di vaccinazione nelle varie fasce della popolazione, tra prime, seconde e terze dosi. Cominciamo subito col dire che oggi ci sarà l'open night per gli over 50 che non sono ancora vaccinati. Ecco, dove e come? Allora, l'open night per gli over 50, per tutti coloro che hanno più di 50 anni e devono fare la prima dose, si farà in tutte e quattro gli hub della provincia di Pescara. Quindi Pescara-Portanuova, Outlet di Città-Sant'Angelo, Scafa e Penne. Qual è la fascia oraria interessata? La fascia oraria è dopo le 20, inizieremo dopo le 20 fino al termine delle persone che si presenteranno. Non ci sarà bisogno di prenotazione, dicevate? No, per gli over 50 che devono fare la prima dose non c'è bisogno di prenotazione. E se volesse presentarsi anche qualcun altro per una seconda, una terza dose, comunque sarà accettato lo stesso? Dipende dalla presenza degli over 50. Se saranno tanti non potremo accettare il resto, se saranno pochi accetteremo anche il resto. Quindi priorità questa sera ovviamente agli over 50. Domani invece ci sarà un'altra giornata speciale, diciamo, dedicata alle donne incinte? Sì, domani in tutta la regione Abruzzo ci sarà questa giornata dedicata alle donne in gravidanza e in allattamento. Queste persone, queste donne avranno una priorità nella vaccinazione, non faranno la fila, ma questo diciamo che è sempre successo in tutti gli hub della provincia di Pescara. E invece sabato ci sarà un open day dedicato fondamentalmente ai bambini, fascia pediatrica 5-11. Dove e come? Anche in questo caso se ci spiega le modalità. Si farà nella stazione di Pescara Porta Nuova ed è su prenotazione e purtroppo i 600 posti che abbiamo messo a disposizione già sono andati tutti quanti, sono stati riempiti tutti quanti. E chi è rimasto indietro potrà comunque recuperare? Assolutamente sì, perché la prossima settimana apriremo un nuovo centro vaccinale, un nuovo hub vaccinale a Palazzo Fuxas e lì dedicheremo almeno tre pomeriggi alla fascia pediatrica 5-11 anni, per cui a breve il problema per questi ragazzini non ci sarà più. Altra questione è quella degli open day comunali. I comuni si stanno anche organizzando per cercare di vaccinare i propri cittadini e anche qui quali sono le modalità? Allora, ci sono tante amministrazioni comunali, specialmente i comuni più grandi, che ci stanno dando una mano nella vaccinazione. Le amministrazioni comunali con i medici di famiglia del territorio organizzano queste giornate. Le modalità sono quelle che il comune apre una linea telefonica per ricevere le domande di vaccinazione e decidono poi una giornata e noi daremo tutto il nostro supporto con vaccini, con altre, con attività, non so, infermieri o con anche qualche medico se ne abbiamo. Qual è la situazione ad oggi per l'asla di Pescara riguardo proprio la campagna vaccinale, se ha delle percentuali? Sì, la campagna vaccinale ha superato l'86% come prime dosi, siamo quasi all'80% come seconde dosi e abbiamo vaccinato quasi al 60% tutti quelli che devono fare la terza dose. Quindi abbiamo sentito, Anna, le percentuali che sono state riferite dal dottor Di Luzio, abbiamo anche numeri assoluti per dare un'idea delle somministrazioni che sono state fatte finora? Sì, proprio per fare il punto sulla campagna vaccinale che riguarda l'asla di Pescara vi diamo qualche numero. Diciamo che in un anno, in tutto, l'asla di Pescara ha somministrato 660.922 dosi di vaccino che si ripartiscono in questo modo, 263.229 prime dosi, 242.831 seconde dosi e 154.862 terze dosi, per un totale, dicevamo, di 660.922 somministrazioni in un anno per l'asla di Pescara, numeri che in questo caso si traducono nell'86,7% delle persone vaccinate sul totale della popolazione vaccinabile. Questo, insomma, per completare un po' il quadro, così come descritto dal dottor Rossano Di Luzio, che tra l'altro potremo ascoltare anche questa sera a partire dalle ore 20.05 all'incirca, in uno speciale in cui si parlerà anche in maniera più approfondita in generale della situazione legata all'emergenza sanitaria da Covid. Carmine, se non hai altre domande, io e Diego Martelli ti restituiamo la linea. Grazie, grazie Anna, buon lavoro.